Giuseppe, la farò là, te lo togo Già, perché se la chiama, Giorgia, togliti, metti vicino a me. Gianni, spostola. Giorgia, vai vicino a mamma, dai. La cintura, ve la siete messi? Cintura? Fermo, fermo, Giuseppe, fermo là. Giano, beh, guarda tutti. La targa non c'è più. La targa? Se n'è andata, è appesa, ma come fosse che non c'è, è una cattocciata. No, vada che fai? C'è il muro. Puoi provare con una ruota là, piano piano. Questa è che crema andrà? La cattura c'è, l'asfattolo c'è, la red. Io non ho unito a farci provare, c'è un guacciolo così che il jeep, no? Cosa spacchiamo? Unito a cacchianare, sì. Ma non ha cacchianare perché non funziona, lo guacciolo e faccio. Ah, direttamente? Vai, Piero, vai, Piero, vai, 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 vai. Vai, Pippe! Ha, ha.